Ciao a tutti, sono Gianluca Buratto, basso. Io sono Francesca Cucuzza, mezzo soprano. Io sono Valentino Buzza, tenore. E fra circa 30 minuti staremo per iniziare questa stupenda generale con il maestro Zubi Meta, il coro del Maggio musicale fiorentino. E l'orchestra del Maggio, verranno eseguite musiche di Schubert e Mozart. Il nostro soprano sarà Eva May, che adesso è in prova. Vi aspettiamo in tanti, questa sera alle ore 20. Per tutte le persone che non potranno venire qui in teatro, ci sarà la possibilità di seguire il concerto in live streaming su Idagio. Detto ciò, vi aspettiamo!